benvenuti a questa nuova puntata di take intervista oggi con noi c'è luigi amigoni buongiorno luigi ciao marcia con noi luigi ha scritto un libro che si chiama visioni di viaggio che è questo libro che è molto particolare perché racconta i viaggi alcuni dei numerosi viaggi che luigi ha fatto in sera la sua moto e questo libro però è anche molto particolare perché ha diciamo uno scopo altro nel senso che questo libro serve ad aiutare due associazioni giusto luigi perfetto due onlus che operano in malawi due missioni che io sono passato a trovare al corso del mio viaggio in africa esatte quindi questo libro ha anche questo scopo di aiutare queste due onlus però cominciamo con le domande allora luigi tu inizi il tuo libro raccontando della prima volta che hai visto il mare tu sei nato negli anni 50 quindi è molto particolare questo tuo racconto di quando avevi sei anni e vedi il mare per la per la prima volta e guardavi l'orizzonte un po con uno sguardo sognante quindi chiedendoti che cosa c'era oltre quindi uno sguardo anche curioso e questa voglia di scoprire restando bambini insomma è una caratteristica un po che accompagna i viaggiatori c'è chi vuole viaggiare perché vuole scoprire e con te c'è questo aspetto ma c'è anche un po di incoscienza anche un po tipica dei bambini i tuoi viaggi ma si mare adesso inizio anni cinque anni me quando da bambini quasi tutti i figli di operai delle chiese andavano a colonia erzil di bordiera molti se la ricorderanno ed è stata la prima volta che ho visto il mare e per uno che arrivava da l'ecco quindi dalla pianura vedere il mare una cosa così grande così senza riuscire a vedere oltre a quell'orizzonte lì è stata una cosa che io penso sorprenda tutti i bambini che la prima volta ci si trovano di fronte iniziamo con i tuoi viaggi che tu racconti nel nel tuo libro il primo che racconti è il marocco del 1977 che tu descrivi un po come il viaggio e probabilmente in questo momento che è nato quello che tu definisci il tuo mal d'africa si parte anche da qualche anno prima con viaggi in ugoslavia piuttosto che in giro per l'italia con la lambretta con un altro modo però quello è stato il viaggio il primo 1977 con un amico partiamo andiamo in marocco nessuna pianificazione perché una cartina e poi si partiva alla scoperta di un paese meraviglioso ma che è meraviglioso tuttora sotto certi aspetti anche a distanza di 40 anni e più un po di inconscienza forse sì mia mamma che il marocco sapeva che cosa fosse mi diceva ma io come faccio a sapere se va tutto bene e la risposta era se non ti chiama nessuno e perché va tutto bene hai girato veramente tutti i continenti praticamente installato a moto e sarebbe impossibile chiederti qual è il tuo viaggio preferito o quello che ti ha dato di più però sicuramente il mediterraneo nel 2010 accompagnato anche da ivana che tua moglie ha un risvolto emotivo unico possiamo dire viaggio straordinario perché siamo nel 2010 pochi mesi prima della primavera d'araba quindi quel movimento che ha sconvolto quei paesi con le conseguenze che conosciamo che stiamo vivendo tuttora genova il traghetto per la tunisia la tunisia la libia poi l'egitto il canale di suez il sinai il traghetto dal sinai la zona di sharm el sheik che tutti conoscono lì o più a nord c'è un traghetto che fa la spola e tra il mar rosso egiziano appunto e acaba in giordania risalita la giordania quindi il deserto dove va di roma petra le bellezze che conosciamo e soprattutto la siria la siria perché alla luce di quello che poi è successo successivamente che è che la tocca ancora con con le vicende che conosciamo ha per me un ricordo particolare un paese meraviglioso una una popolazione tanto spendida e poi le bellezze di luoghi come palmira e poi adesso tratta di capire cosa è rimasto di quel luogo lì entrare con la mia moto quei luoghi dove i romani ci sono arrivati duemila anni fa ma mica in moto e quindi e lì ci entri non c'è una biglietteria dove dove entravi pagare il biglietto e un altro incontro estremamente importante per me in siria è stato l'andare a vedere l'eremo di marmous alabash rosalabissino che è stato riportato in vita da padre dall'olio e ormai dal 2013 non si hanno più notizie di lui importantissimo questo luogo perché era un luogo di culto multireligioso li andavano a pregare comunque a riflettere ebrei cristiani e musulmani viaggio davvero in compagnia questo viaggio di ivana condiviso interamente con ivana che che quando un po mi seguono i miei viaggi adesso io sono in pensione lei lavorava ancora per cui non poteva certo però se ho potuto fare i viaggi che ho fatto è stato grazie alla diciamo comprensione di i tuoi numerosi viaggi sono stati tantissimi quindi è difficile dire tanto di ognuno però vorrei farci una domanda sul tuo viaggio in mongolia perché soprattutto in questo momento storico tu arrivi in kirghizistan e a un certo punto ti trovi di fronte ad una popolazione nomade che vive praticamente di niente in assoluta libertà fai una riflessione molto profonda su questo momento perché proprio ti confronti con questa libertà di queste persone e ti chiedi ma il nostro sviluppo economico e tecnologico porta veramente la nostra libertà e quindi questa riflessione molto molto bella che tu fai sì lì per certi aspetti anche se in modo differente alla stessa riflessione potremmo fare sull'africa è diverso perché è un viaggio intanto impegnativo perché l'ho fatto da solo la prima parte con ivana fino a samarkand quindi in usbekistan le città famose samarkand bukhara e kiva lungo la via della seta quindi paesi paesaggi davvero spettacolari in usbekistan poi ivana è tornata io proseguito da solo che l'higistan è un piccolo stato dell'ex unione sovietica si sviluppa a 3 mila metri d'altezza popolazioni nomade che vivono di quello che la natura offre loro po di allevamento un po di agricoltura lì ho visto bambini felici gente serena una situazione diversa dall'africa questa perché comunque il sostentamento loro ce l'hanno hanno di che vivere vivono di poco ma non hanno problemi di acqua piuttosto che di alimentazione propria davvero impone delle riflessioni perché se poi vediamo i nostri bambini inevitabilmente diventano capricciosi perché tutto gli è dovuto e tutto lo dico sempre bisognerebbe portare i nostri figli e i nostri nipoti un pochino da quelle parti i valori della vita cambiano radicalmente la cosa interessante del tuo libro è che non è solamente un resoconto di viaggio ma appunto i tuoi viaggi portano a fare tante riflessioni a me ad esempio è piaciuto molto il tuo viaggio dall'alaska alla patagonia perché è un viaggio incredibile lunghissimo però c'è un viaggio che adesso vorrei chiederti di dirci qualcosa perché il viaggio che hai fatto in australia interessava molto focalizzare l'attenzione su questa tua esperienza proprio perché quest'anno con gli ultimi accadimenti soprattutto appunto che è cominciato con gli incendi in australia porta molto l'attenzione ciò che è il clima quindi cambiamenti climatici l'attenzione verso l'ambiente com'è questa terra che tu hai conosciuto prima che succedesse tutto questo ma è stato intanto l'australia uno pensa vabbè uno che ha attraversato l'africa in moto piuttosto che 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 l'asia così viaggio comodo in realtà l'outback australiano non è una passeggiata fai centinaia di chilometri al giorno senza vedere nulla quindi anche problemi poi sulle strade che ho fatto io nell'outback australiano quindi la parte più selvaggia dell'australia se vogliamo la popolazione australiana è molto attenta all'ambiente e per cultura per storia eccetera però anche loro nonostante questo fanno i conti con i capricci del clima oggi quindi gli incendi che abbiamo visto foreste distrutte e questo ripeto nonostante l'estrema attenzione che quel popolo ha nei confronti dell'ambiente stesso si tratta di capire come cambiare il nostro atteggiamento nei confronti dell'ambiente in cui viviamo alcune cose non vanno non possiamo continuare a distruggere foreste e questo sta accadendo in amazzonia altro problema e l'amazzonia era il mio prossimo viaggio ma che a questo punto vedremo quando quando poterlo fare è un cambiamento secondo me culturale di cui dobbiamo farci tutti carico quello perché basta entrare 12 dell'australia marzia paese tra l'altro meraviglioso e lì è stata l'occasione anche per rincontrare gente che avevo amici che avevo conosciuto per dire lungo il cammino di santiago ma se noi guardiamo anche i nostri boschi e quelli proprio a due passi da casa nostra ci rendiamo conto di come sono di come sono abbandonati e io la riflessione faccio io parlavi degli incendi in australia ma se io guardo i nostri boschi quelli di casa nostra se scoppiasse un incendio lì abbiamo le case a 100 200 metri con l'abbandono in cui sono lasciati questi boschi dove chiaramente non ci lavora più nessuno io faccio fatica immaginare quello che potrebbe succedere tu hai accennato all'ultimo viaggio che racconti nel tuo libro che è quello del cammino di santiago quindi vorrei chiederti in questo momento poi l'importanza del ritornare un po alle radici quindi del camminare dell'incontrarsi con la natura e dello stare con se stessi alla fine perché tu hai fatto questo viaggio con te stesso sì sì i miei cammini quello di santiago cinque o sei anni fa interamente quindi dai perene fino a finisterre rigorosamente da solo ma anche anche in italia la via francigena piuttosto che il cammino di assisi o il cammino di san benedetto esperienze che ti consentono di visitare di conoscere borghi che non luoghi bellissimi che non è che non vedresti mai neanche con la mia moto quindi esperienze io consiglio davvero a tutti e il è un po quello che sta facendo bene tu a ricordarlo ma in un momento come questo dove abbiamo tutto il tempo per per pensare alle nostre cose a quello che che è stato che avrebbe potuto essere o quello che sarà che ci immaginiamo che possa essere nel momento anche per guardarsi dentro il cammino questo te lo porta perché campini da solo non hai altra gente intorno ed è bello stare soli con se stessi ma la stessa cosa che io provo è sotto il mio casco quando sono in giro in moto e dobbiamo ritrovare anche il tempo per riflettere per stare un pochino con noi stessi va bene allora ringrazio molto luigi amigoni per il tempo che ci ha dedicato e grazie mille a tutti per l'attenzione buona giornata grazie